Lo sguardo di Maria Non è uno sguardo Che Che mi perseguita Lo sguardo di Maria È sempre uno sguardo di una mamma Forse Delle volte noi ci nascondiamo Non ci vogliamo far vedere come quando facciamo Qualcosa Che non vogliamo far vedere alla mamma Eppure anche quando ci nascondiamo Quello sguardo ci segue sempre Perché è sguardo Di amore, sguardo di luce Anzi, più sono nelle tenebre Nel dolore, nella sofferenza Nella malattia, nella rabbia Nel non senso della vita Più mi allontano Dalla luce che è Dio Più mi allontano da lei che riflette Della luce di Dio E più il suo sguardo mi segue Perché come ogni mamma Vuole sempre Salvare i suoi figli Lo sguardo di Maria E in questo mese Cerchiamo di Sentire veramente Il suo sguardo Entrare nella nostra vita Entrare nel nostro cuore Entrare nei nostri problemi Nelle nostre gioie Nelle nostre speranze E nelle difficoltà Della nostra esistenza E continuiamo A contemplare Lo sguardo di Maria Con le parole Di Papa Francesco Parole che fanno parte Dell'omelia che lui ha pronunciato A santuari di nostra signora Di Bonaria Il 22 settembre del 2013 Sentiamo cosa dice Papa Francesco Madre Donaci il tuo sguardo Nel cammino spesso difficile Non siamo soli Siamo in tanti Siamo un popolo E lo sguardo della Madonna Ci aiuta a guardarci tra noi In modo fraterno Guardiamoci in modo più fraterno Maria ci insegna Ad avere quello Quello sguardo Che cerca di accogliere Di accompagnare Di proteggere Impariamo a guardarci Gli uni Gli altri Sotto lo sguardo Materno di Maria Che bella questa immagine Imparare a sentirsi fratelli A sentirsi sorelle Ad amarci Sotto lo sguardo Materno di Maria Come quando in una casa Noi tutti Sotto lo sguardo Della mamma Ci amiamo veramente Da fratelli E da sorelle Quello sguardo Che mette unità Quello sguardo Che ci aiuta A comprenderci E ad amarci L'uno E l'altro Ci sono persone Continua Papa Francesco Che istintivamente Consideriamo di meno E che invece Ne hanno più bisogno I più abbandonati I malati Coloro che non hanno Di che vivere Coloro che non conoscono Gesù I giovani Che sono in difficoltà I giovani Che non trovano lavoro Non abbiamo paura Di uscire E guardare I nostri fratelli E sorelle Con lo sguardo Della Madonna Lei ci invita Ad essere Veri fratelli E non permettiamo Che qualcosa O qualcuno Si frapponga Tra noi E lo sguardo Della Madonna Madre Donaci Il tuo sguardo Nessuno Ce lo nasconda Madre Donaci Il tuo sguardo Diciamola Oggi Questa preghiera Insieme Lasciandoci Illuminare Dagli occhi E dalla luce Degli occhi luminosi Di Maria A domani Padre Pio TV Dritto al cuore Ciao Grazie a tutti